Parliamo di orologi da uomo. Salve signori, in questo video voglio parlare con voi di orologi da uomo, ma non tanto dell'argomento orologi da uomo, ma vorrei farvi pensare e magari darvi anche qualche consiglio, in base a quello che è la mia esperienza, su quali tipi di orologi un uomo deve avere all'interno del suo cassetto. Il primo orologio del quale vi voglio parlare è sicuramente l'orologio cosiddetto elegante, ha un look piuttosto minimal, magari ha anche il cinturino in pelle e non è troppo pretenzioso, ha il quadrante non troppo confusionato, le alternative possono essere diverse. Il quadrante io comunque lo terrei sempre o sul bianco o sul nero, ad esempio anche lo champagne, però ci si può in qualche modo dare libertà e quindi dipendentemente dal tipo di vestito e dal tipo di occasione nella quale siamo inseriti, possiamo anche cercare di spaziare sulle alternative. Però mi raccomando, l'importante è che il cinturino sia in pelle. E dato i progressi tecnologici, purtroppo, bisogna sempre assicurarsi che quella pelle sia di quel determinato animale, perché con le industrie di trattamento del pellame, magari una pelle di coccodrillo è semplicemente testurizzata a coccodrillo, ma poi è una pelle normale. Quindi l'unica garanzia che si ha per quel tipo di prodotto, quel tipo di pelle, la si ha andando a vedere effettivamente le grandi marche. Quindi un cinturino in pelle di coccodrillo che costa poco. Cerchiamo di avere qualche informazione in più perché magari non è vero coccodrillo. Detto questo arriviamo a parlare della cassa. A me personalmente la cassa piace quando è il più sottile possibile. Non deve essere un orologio molto visibile da un punto di vista di profilo, non deve avere magari degli spigoli e un look piuttosto minimal e pulito. Il secondo tipo di orologio che un uomo deve sicuramente avere è un crono. I crono sono degli orologi piuttosto particolari, nel senso che ce ne sono alcuni modelli che stanno bene anche con un cinturino in nylon, ad esempio, ma io preferisco quelli che hanno il bracciale in acciaio. Ovviamente l'acciaio non è l'unico materiale che viene utilizzato, c'è il titanio e il super titanio. Chi come me ha la propensione verso i Citizen sa che Citizen ha fatto qualche tempo fa una linea in super titanio. Comunque, ritornando al discorso principale che è il crono, il crono si addice benissimo con un look piuttosto casual, va bene dipendentemente dal tipo di linea che ha anche per un abito elegante, però tenete presente che i crono in genere hanno un quadrante piuttosto rumoroso, quindi significa che hanno, almeno oltre al quadrante quello più grosso, altri tre quadranti, il numero del giorno, quindi la data, e eventualmente potrebbero avere anche altre lancette, oltre a quella delle ore, dei minuti e dei secondi, che possono essere rumorose da un punto di vista di design, se le vogliamo mettere con un abito elegante. Quindi diciamo che il crono si addice particolarmente a un abito casual. Una volta che abbiamo capito che c'è un orologio minimal ed elegante, che può essere indossato con un determinato tipo di abito, e il crono che può essere indossato con altri tipi di abiti, ovviamente possiamo spaziare in tutte quelle che sono le altre categorie. Ho fatto già un video tempo fa, magari ve lo lascio qua sotto in descrizione nell'infobox per farvi vedere quello che è un po' il panorama degli orologi maschili. Una cosa che dobbiamo tenere in considerazione, oltre a tutto questo, è la nostra dimensione, quindi la dimensione anche del nostro polso, perché non possiamo prendere degli orologi che sono spropositati. Mi capita di vedere sempre più spesso che certi uomini, nonostante abbiano un polso con una buona circonferenza, utilizzano degli orologi che a mio parere sono veramente troppo grossi. L'orologio, se è un orologio bello, lo vorremmo vedere spesso durante l'arco della giornata, perché a me personalmente piacciono tantissimo gli orologi, per cui cerchiamo di scegliere l'orologio che più si addice alla nostra corporatura. Bene signori, anche questo video finisce qui, grazie per aver guardato fino a questo punto, magari qua sotto nell'infobox vi lascio qualche link a qualche orologio che mi ha colpito particolarmente, e vi ricordo di guardare su Instagram e su Facebook, che ho altri due canali. Se volete mettermi in contatto con me, potete lasciare un commento qua sotto, magari dicendomi qual è il tipo di orologio e il modello di orologio che prediligete, oppure mandarmi anche un messaggio su Instagram o su Facebook, meglio ancora. Signori, ci vediamo al prossimo video, arrivederci!